Avete legnami infissi, Sport1 da 37 anni al servizio dello sport e Verde Sativa presentano il circuito calcistico d'Elite. No, non è sfuggito un punto, ne sono sfuggiti tre, perché quando siamo andati in vantaggio la partita era quasi finita. Quindi dovevamo gestire meglio la situazione, invece abbiamo dato modo ai nostri avversari di riversarsi in attacco, però va dato atto anche a loro di averci creduto, di aver trovato un bel gol. E poi questo è il calcio, con il Montagnolo abbiamo vinto a tempo scaduto e oggi abbiamo perso. Insomma, ci sta, la squadra si è impegnata, abbiamo avuto dei problemi anche di organico. È soddisfatto diciamo al 90% perché dovevamo concretizzare molto di più, quindi lavoreremo su questo soprattutto. La vittoria secondo me è strameritata perché tante occasioni che abbiamo sciupato sarebbero state diciamo un vero peccato se non avessimo presi tre punti. Non siamo stati fortunati con le decisioni arbitrali sul momento fondamentale, cioè sul rovesciamento di fronte da qui è nata la punizione su cui loro hanno segnato. C'era un vantaggio da concederci, eravamo davanti alla porta e poi un rigore sul rimpallo successivo. E quindi siamo soddisfatti ma c'è ancora molto da lavorare, soprattutto sotto...